buongiorno oggi vi presentiamo questa chicca giapponese infatti la nuovissima suzuki swift 1200 ibrida bicolor beh lo potete vedere bellissima in questo colore rosso col tetuccio nero allestimento top top significa top di tutto full optional bellissimi cerchi in lega diamantati da 16 pollici sportività anche sulle linee i vetri oscurati posteriori i sensori di parcheggio posteriori la retrocamera perde per delle retromarce al top il bagagliaio è bello ampio molto spazioso tenendo presente che un segmento b e la macchina piccolina comunque anche lei con la sua maniglia a orecchia qua sulla portiera posteriore molto tanto spazio anche sul divanetto posteriore tanto che tre persone anche di statura medio alta hanno spazio per le gambe stanno comodamente belli pannelli porta questo qui è l'anteriore passeggero interni sono sagomati sportivi e una plancia molto interessante tenete presente che ormai i giapponesi anche come linea sulla qualità non abbiamo mai discusso sono al pari delle europee 4 vetri elettrici gli specchietti che sono ripiegabili elettricamente basta schiacciare il tasto sedile regolabile in altezza poi tutto il controllo dei sensori parcheggio il lane assist tutta la sicurezza attiva praticamente quella che previene un potenziale incidente bellissimo volante piccolo e sportivo ovviamente in pelle e la strumentazione di bordo analogico digitale climatizzatore automatico e tutto sistema multimediale con navigatore satellitare la voce bluetooth la radio completa proprio è una vettura full option da un tempo si chiamavano full option sistema keyless perciò sia accesso alla vettura che l'accensione della vettura e senza chiave basta tenerla in tasca luce attivazione automatica è una bella vettura per città non solo anche per bei viaggi perché quasi sta da dio dentro e questo qua è gioiellino giapponese questo motore che è un 1200 ibrido come potete notare tanto spazio anche per metterci le mani anche se ormai oggi le auto sono a scatola chiusa poca manutenzione comunque sia come potete notare è un bel prodotto molto interessante e vi lascerà anche stupiti dell'economicità sia di utilizzo piuttosto che di acquistarla questa beneficia finché non saranno finiti anche degli equincentivi statali comunque sia qui in auto smile avrete sempre le campagne ufficiali e promozionali di questo marchio giapponese suzuki swift 1200 allestimento top bicolor ibrida è qui da noi e vi aspetta ma ricordatevi sempre di contattarci prima di passare così sarete certi che sia ancora disponibile qui a sepugnago in provincia di lodi